Sono partiti, seppur con evidente ritardo, i lavori per la pulizia delle spiagge del litorale leccese. Dopo le proteste da parte dei titolari degli stabilimenti balneari e le numerose segnalazioni dei bagnanti per il degrado che imperversava nelle marine leccesi, l'amministrazione comunale ha accelerato i tempi per la chiusura delle gare d'appalto e l'assegnazione del bando alla ditta vincitrice. Ad aggiudicarsi i servizi per i prossimi quattro anni, l'associazione temporanea di imprese è formata dalla Franeco e Serrele di Campi e dalla Vetruni Ambiente di Brindisi per un compenso di 539.520 euro. Da ieri sono iniziate le operazioni di diserbo e di riqualificazione dei percorsi pedonali per far tornare a splendere le spiagge salentine. Meglio tardi che mai certamente e adesso per recuperare il tempo perduto, gli addetti ai lavori dovranno affrontare una vera e propria corsa contro il tempo che interesserà Spiaggia Bella, Torre Chianca, Frigole e San Cataldo. Intanto la fatina delle pulizie ha già miracolato Torre Rinalda che finalmente si presenta ai bagnanti in condizioni ideali per trascorrere una giornata al mare, senza il rischio di incappare in vetri e rifiuti abbandonati sulla sabbia. Dopo le marine verrà fatta pulizia anche in centro città e in periferia.